Furti seriali in Ortigia, attività investigativa dei carabinieri, scacco o un ladro 38enne. Il modus operandi dei furti era diversificato sia in esercizi commerciali che in abitazione. Le indagini condotte dall'Arba hanno fortunatamente consentito di identificare il malvivente con l'autorità giudiziaria che condividendo le tesi investigative ha quindi ammesso l'ordinanza di custodia cautelare al carcere di Piazza Lanza di Catania. I carabinieri della stazione di Siracusa-Ortigia hanno preceduto l'ordinanza del Tribunale di Siracusa su richiesta del Pubblico Ministero Marco Dragonetti nei confronti di un siracusano, Andrea Aliano, 38enne, pluri-pregiudicato, ritenuto responsabile di alcuni episodi di furto aggravato sia in esercizi commerciali sia in abitazioni private. Le indagini condotte dai militari della stazione carabinieri di Ortigia hanno consentito di raccogliere chiari elementi accusatori in ordine alla responsabilità dell'indagato nella commissione dei tre furti compiuti nel 2018 in concorso con un complice. In tali circostanze i due soggetti in questione, collaborando fra loro, uno facendo il palo, l'altro compiendo materialmente la sottrazione dei beni, riuscirono nottetempo a intrufolarsi in diverse circostanze in una dimora privata dove trafugarono un televisore e in un ristorante da cui asportarono del denaro dall'interno dei registratori di cassa. In una terza circostanza trafugarono invece un motociclo dalla pubblica via. La predetta stazione carabinieri iniziò le proprie attività a seguito delle denunce di furto presentate dai proprietari dell'abitazione e degli esercizi commerciali del centro storico, sviluppando le dichiarazioni delle vittime e avvalendosi dell'esame delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nelle aree interessate, giugendo infine a identificare il soggetto. L'arrestato, a cui è stata notificata la misura cautelare degli arresti domiciliari, si trova ora presso il carcere Piazza Lanza di Catania, poiché già ristretto per altra causa.